La paura e i fantasmi del passato Noi insieme stiamo costruendo il futuro Noi insieme stiamo costruendo il passato Noi insieme stiamo costruendo il passato Noi insieme stiamo costruendo il passato Nel 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 passato 쓰는 Jud�versi Ginali ha immagini du vedi che aiutevani i virghi alex crackers e i virghi www.iliterату.tv Pagine Lo so olduğunu abbiamommi di Eurepa l'effetto che hanno avuto migliore e i virghi hanno fatto seguire i virghi poi finalmente nella Hawalla Ma questa cosa è una storia di svede in questo caso. Questo è un po' di questo punto. Non si è necessario a questa storia di un po' di più iniziata con le siasetiche. Chia di un po' di più iniziare i s offri, i un po' di più iniziare con le francese. C'è un po' di più iniziare a dire che si è difficile. E non ho detto che c'è una storia di una storia di parliamentse francese. Ma una storia di un po' di più. c'è la compота che sono scatti sembra che la prima voltaعلthi che è sensato c'è una offertrじゃẩé риre brieche se non gli esped腕bi ma faccia l'ai potenti che il riguardabile anche una appartazione e che sarebbe non gli scattere c'è una offertr же Il Fernando a Saar una persona che ha fatto con il하o e abbiamo fatto con delle chiamati una chiamata di un'aristica e una chiamata di un'aristica e poi ci sono anche stati ma ci sono stati Donald Trump abbiamo lavorato con la chiamata contro il ciaso che ci dice per mettere l'anni mi ha fatto l'aristico si è un'er Fangio Trump ha fatto un grande E' un problema che ha detto che sia il suo lavoro E' un problema che aveva fatto E' un problema che ci sono i suoi E' un problema che sta a fare E' un problema che hanno fatto Inizia un problema Di questo è il nostro paese Il lo stesso E' un problema che ci si chiama Non ci sono un problema Per chi si è un problema E' un problema E' un problema se faccio un attimo attraffo di Roma che si può essere stato stato un attimo e non lo so che vogliamo e una grazie a la rappresentante Omar del Minnesoto oh oh ho scusato oh non è necessario Israele oh mi assicuro Mi scusate. è stato una storia che non è stata un'appoglio di 15 anni se non mi ha detto era così quando si era una storia di questa ora è un'attività ma è un'attività ma è un'attività ma è un'attività non era un'attività è un'attività ma è un'attività ma è un'attività ma è un'attività perché è avvolto il rischio di Trump non si fa un'attività di Washington o 40% ci sono felice che strano la relazione dei suoi collegati che si chiusa inserire i suoi dettagli ci ha chiuso il tema testo che la sua certezza è una nh Spezia Trump è buona tutt Mengenzi tra aiutati si valuta loro e ti risparios acc key i nostri sp знакi che la sua governiamo processing l'abbiamo the Trump ha chiusoQ se lo vedi. Il nostro corso è a base di cazzo Mida. Non è un problema, ma è un problema. Perengono i europei e americani non credo che sia da parte di un'escrivito allo che si occupano un'escrivito e delle città, dei sottopi e delle città. Ma non è un problema che è da parte si è da parte ma è un'escrivito, ma è un'escrivito che è un'escrivito. E invece, che non si trattava 1 anno, è stato molto a tutti. se faceva solo che fino adzedere la famiglia di farce non ha fatto cambiare la famiglia di Ghezza e ha parlato di una differenza e ti senti che hai detto ma che hai fatto una cosa qui ti senti in qualемuno, ma non è stato fatto e che ero il fine in cui ho fatto l'erreza, Ismail Hennia è stata una città di vita ma avete una città di vita ma il mondo, è un città di vita ma ne sono che è un città è di diritto questa è la mia am pessima ed è fizzevi una città di una città di vita non è il suo giusto che non si facevano mai a quanto riguarda le manca ma non è un uomo non è un uomo in Mareca, ma non è un uomo non è un uomo che non è un uomo non è un uomo non è un uomo che faceva anche a parte della fase della vita di Tommo Sillini Mattio Salvini è un uomo che faccio un uomo a fare un uomo che non è un uomo ma non è un disco con un bale e un disco Per quanto riguarda il nostro sede è un problema che non vogliono ma non stessi ma non sopra ma non è un problema ma non è un problema E' un problema Katia Hopkins inore la lingua inglese che è una cosa difficile è un problema è un problema che è un problema inore la lingua inglese è un problema ora gli secondi è un fatto di dire che il soggetto di Donald Trump Donald Trump è stato il soggetto di dire che il soggetto di un soggetto di Donald Trump e del tempo che si trovano il mondo e quando accadeano il soggetto di Donald Trump e quando accadeano il soggetto di un soggetto che ha avuto a valore di una persona, e quando la gente ha detto che il soggetto di un soggetto è stato di borsa e inglese Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 FONCIS NIMADZA FONCISKA KANAHARTAGNA ISLAN NIMADZA YORUBI SANA DIADHILA SEDA FIBAR LAMANADZA WAD MADZA YORUBI IAHETTA KAN MIDAWUG YORUBI WHAASUHBUHYEY ACHZABTAMIDIKTAFUG TALYANEGA WZIERKA RRIMAHAGUDEHE MATEO SALVIIENI ANSHIGNEIN UKAMIDYAHY MIDIKTAFUG AYAMAMENUOAI IN WAHDUONI MAHاجرIN WAD KUSAHIRATUH HABAH TALYANEGA HEITA HADDI-AYTAY MEDGAAFIMAD che sono più facilmente i ragazzi e anche se non è un certo rispettoso in cui si è stato un'esercito è stato un'esercizio nella zona della seconda la regione del SGL è di più ampia in cui si fanno una parte di Ferencisi non è un'esercizio la Europa è una Europa e la Europa è una Europa e il nostro è stato un'esercizio e il nostro è stato un'esercizio E non si riconosce, non è una germana, ma che si riconosce la sua vita, non è un problema. E non è un problema, non è un problema. E l'argomento è rimasto a diriger e che le loro cose in più reali, e la nostra destra, l'argomento di Sebistien Cortés. L'argomento di Sebistien Cortés non ha visto l'argomento, e non ha visto l'argomento. Ma se c'è un'argomento di un'argomento, che è un'argomento, . 3. 4. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 10. 18. 20. 21. 21. 21. 22. 22. Non, così ci sono i nostri amici. E' il vita uguale a deg-sado. Questo è il passato. Si non ci sono, è un amice noi. Non c'è un miso, ma che riguarda il modo. La città è un miso. Non c'è più di come, non ti ho sospiro. Tantiamo il miso, non riusciare i miso, non riusciare i miso. Il fatto è il conoscere alla delle cose. Quindi, non c'errò di tutto, nemmeno, Non ci sono qualcosa di diritto che il mondo e il mondo è un'escalante che ci sono stati anche in più ma è un'escalante è un'escalante ma il mondo fa ci sono stati e anche lo stesso è un'escalante che ha detto che abbiamo parlato per il l'escalante questo è il caso di questo Grazie per la visione Grazie a tutti